Claudio Pucci, presentazione della squadra e annuncio che oggi avete confermato che ci siete ancora e questo non è poco sia a livello medico sia soprattutto a livello finanziario per la società. È un apporto che davamo da qualche anno e che abbiamo deciso di continuare a dare nonostante le difficoltà che ha, anzi soprattutto per le difficoltà che ha la società in questo momento dovute alla lontananza da Varese e quindi al Palaghiacci Milano. Quindi ancora di più era giusto dare un contributo. Chiaramente la mia passione per il ghiaccio, per questa squadra è risaputa quindi non potevo dire di no insomma. Ti abbiamo visto fare una chiacchierata con l'allenatore? Lo conosci personalmente? No, lo conosco perché chiaramente Don Barrasso è... Un'enciclopedia come Ginkorsi? Allora, chiaramente non lo conosco come Ginkorsi, però per noi, della mia generazione, Tom Barrasso rappresenta sicuramente un mito, nel senso che quando io ero ragazzino avevo il suo poster in camera. Lui era stato uno dei primi portieri ad avere la maschera. Noi ai tempi ci giocava, anche Gink forse ti ricorderai, giocava col casco, non con la maschera da portiere. Come paracollo aveva una visiera attaccata a quei lacci e noi lo imitavamo. E Barrasso nei poster aveva questa maschera fantastica, quello che ormai usano tutti i portieri, è diventata una banalità, ma negli anni 90 non lo era affatto. Per cui insomma me lo ricordo per questa ragione. Poi ho dovuto giocare nei Pittsburgh Penguins che avevano i colori simili a quelli dei Mastini, per cui è sicuramente un personaggio che conoscevo sui poster, mi ha fatto piacere conoscerlo di persona. E devo dire che così come mi era stato descritto anche da Malfatti, una persona che è molto seria, che sa quello che vuole, è un vero professionista ed è quello che ci voleva secondo me. Senti, voi so che ci siete anche in Sbizzera, quando verrai a sponsorizzare qualcosa anche in Ticino? Anche se chiaramente ti costrerà qualche ora in più. Qualcosina in più, qualche franco in più. Ma guarda, ti dico la verità, ho avuto una chiacchierata con il responsabile marketing del Lugano qualche mese fa. Sì, chiaramente le cose sono un po' diverse, dipenderà un po' dall'opportunità che ci saranno là. È un hockey che a me piace, è un hockey che ho frequentato, però è un hockey che è un po' lontano da noi in questo momento. Anche proprio da un punto di vista fisico, per me sarebbe difficile andare a vedere le partite. Per cui stiamo valutando l'opportunità magari anche di avvicinarci al Lugano. Lugano, perché io ho sempre tifato squadre che avessero i colori simili a quelli dei Mastini. Purtroppo è così, quindi... Quindi stai dalla mia parte, stai dalla mia parte. Ti invito volentieri, quando ci vediamo in modo di vederci, ti invito una sera sicuramente a vedere i hockey che è un hockey, di cui passo più tempo lì che porto a vedere i Mastini. Molto volentieri e poi ci mangiare un bel bratwurst insieme a fine partita. Ringraziamo Claudio Pucci, l'ultimo entrato, speriamo che non sia l'ultimo sponsor che aiuta i Mastini che sicuramente hanno bisogno. Assolutamente sì, c'è bisogno dell'aiuto, ma io dico soprattutto che non deve essere visto come un aiuto in termini di dare, di fare, tra virgolette, la carità. Dobbiamo pensarlo in termini di investimento negli anni futuri, perché l'hockey negli anni futuri, da qual 2026, dovrà necessariamente crescere. Quindi io invito tutti gli imprenditori di Varese, ce ne sono, a dare una mano a questa squadra, avvicinandosi quest'anno e magari con un contributo poi maggiore l'anno prossimo col Pallaghiaccio, che sarà veramente una bella casa. Come ha detto Matteo Bianchi, facendo notare che Varese avrà bisogno nel 2026, oltre questa pista, magari anche un'altra pista d'allenamento vicino, in vista delle cose a Milano e Cortina. Dell'Olimpiadi, certo. Dell'Olimpiadi, scusate. Assolutamente sì, sarebbe una bellissima cosa. Io sarei già contento di vedere, anzi sarò contento quando vedrò il Pallaghiaccio finito, mi sono emozionato soltanto l'altro giorno passando, vedendo finalmente la volta finita. Devo dire che secondo me sarà veramente una bella sorpresa per tutti, ne sono convinto. Grazie Claudio e grazie per quello che fai per i miei mastini.